Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale, io sono Malta e oggi finalmente siamo qui col vincitore del contest Guardate che belli i bigliettini A darmi una mano ci sarà la fantastica Marianna Che si occuperà lei dell'estrazione, quindi se non vincete prendetela con lei Ora sta mescolando i bigliettini Sono tipo più di 60, perché 60 persone hanno avverito Tra 5 secondi precisi si procederà all'estrazione 4, 3 2, 1, vai Marianna ha fatto la sua scelta Vedremo chi sarà il vincitore di questo fantastico contest Il vincitore del fantastico contest è Benito Relo Complimenti Benito Relo, hai vinto 10 euro di Ricalica PSN Mi raccomando, entro una settimana scrivimi sia in privato che nei commenti che hai visto questo video E io mi premurerò di mandarti il codice per riscattare Nel caso in cui tu non mi risponda Tra una settimana farò un ulteriore video in cui farò un altro vincitore Bene, grazie a tutti per aver visto questo mini video Ringrazio Marianna per la partecipazione E noi ci vediamo in un prossimo video Ah, vi ricordo che in descrizione trovate i link per Instagram e per Facebook Bella ragazzi Ringrazio Marianna per la partecipazione